La musica da ballo in Italia La musica da ballo in Italia La musica da ballo in Italia Andiamo a scoprire l'artista della settimana di Liscio.1 Presentato da Media TV L'artista di questa settimana più attivo nel social network di Liscio.1 è Edita Camisca Vuoi rivedere la classifica? Vai su www.liscio.1 o segui le tv e le radio facenti parte del network Liscio.1 Ci diamo appuntamento alla prossima puntata per scoprire il ballo di gruppo del mese di Liscio.1 Rimanete con noi, vi aspettiamo, ciao!